Ciao, sono Paolo Baci e vi presento questo America Arca America 407. È un camper che poi mi viene in mente tutti i viaggi che ci ho fatto con la mia famiglia. Guardate, ora non so se vedete, ma è reale la pelle d'oca. Se volete vedere tutte le caratteristiche di questo camper, cliccate sulla parte alta che scoprirete sia le caratteristiche meccaniche, lunghezza e gli option che ci sono. Questo è il letto che si alza, il letto trasversale che si alza e ha un bellissimo contenitore nella parte sottostante. E ora lo chiudiamo e andiamo a vedere l'altro contenitore che si trova sul lato sinistro. Guardate com'è grande in vetro resina con lo sfondo in fondo per metterci gli sci. Andiamo dentro, che ve lo spiego bene. Allora, la struttura è una struttura arca e anche la tappezzeria è un ricordo con le mie figlie piccole. Vabbè, però come vedete il proprietario o i proprietari, ma guardate, è un camper così tenuto anche se ha avuto due o tre proprietari. Ora non mi ricordo quante ne ha avuto, cioè non l'ho visto, però come potete vedere com'è tenuto è la cosa più importante perché anche se ha avuto cinque proprietari e viene tenuto in questo modo, tutti e cinque hanno avuto attenzione. Questa è la stoffa e si vede dalla fantasia che la stoffa originale è perfetta. e quindi molto spesso una persona, persone, anzi perché persone, quindi qui ci vuole la famiglia nel suo insieme perché il camper è la famiglia che ha voluto bene al camper, sia bambini che gli adulti, quindi se è tenuto così è una garanzia. Guardate tanti contenitori di pensile, qui una bella manzarda con tutta l'aria che gira tutto intorno, il pannello anticondensa che a vederlo mi ricorda anche questo tempi passati che veramente d'inverno è veramente un luogo accogliente, ma quando isola d'inverno isola anche d'estate. La finestra scorrevole, per cui anche durante il viaggio si lascia aperta, oppure quando siamo fermi in certi parcheggi dove non si può, in un parcheggio autostradale dove non si può aprire le finestre, con questa finestra c'è un bello ciclo d'aria e poi c'ha il suo oblò e l'altro oblò posteriore. Il camper cosa c'ha? C'ha un matrimoniale che può essere qui. Il bello dell'arca cos'è? Tracca. Questa soluzione e poi, allora, che in questo caso si allarga e quel cuscino, tutta quella cosa è rigida, che si abbassa, guardate, ora picciare le cinture fa un po' peggio, però si abbassa e diventa tutto una U. Quindi pensate alle persone che ci possono stare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 persone a conversare tranquillamente. Il tavolo con facilità si abbassa e diventa il matrimoniale. Poi cosa c'ha di bello? C'ha di bello che questa sfonda gira e questa è una gestualità che sia quando le ho vendute, sia quando le ho usate, è veramente, l'ho fatto tante 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 volte. Eccolo qua. Quindi questo è il frontemarcia. Anche se per legge e giustamente quei due sono i posti corretti da sedersi. Veramente mi sto divertendo a spiegarvi sto camp. Quindi guardate, come vedete mi ci muovo bene. Come è grandissimo questo armadio. Poi un bel blocco cucina, bel piano d'appoggio, bel lavabo. scarico delle acque, delle verdure, piatti e roba del genere. Qui frigorifero. In quei tempi di 160 litri non c'erano, però vi garantisco che è anche bello girare e comprare cose. Che senso ha comprare? Tanto a casa, portarsi nel frigo, poi quando c'è caldo tante volte non riesce, ma non è il frigo del campo. Nessun frigorifero quando sono pieni riescono a funzionare bene. E quindi si compra delle cose e via. Il bagno. Il bagno, ecco, io nelle vacanze, ma il bello della vacanza del campo con i bambini è proprio viverli. E quindi anche il bagno fa parte dei miei ricordi di lavare le mie figlie. Quindi c'è una bella finestra, un oblò. Quindi pensate, con la doccia, guardate, la doccia lavare un bambino è estremamente semplice. C'è anche la tenda, ma come vedete c'è un grosso scalino per cui tutta l'acqua è molto pendente. Anche questo è molto importante perché, allora, uno, sentite, non è plastica, ma è vetroresina. Quindi ha una pendenza molto pronunciata, per cui si scarica sempre. Non avete nessun problema. E poi se arrivano delle gocce qui c'è lo scarico a sua volta. Qui il water, guardate come si sta bene, e poi il lavello. È facile a usarlo. Da quest'altra parte, a differenza di tanti lettini, questi sono veri letti, quindi un bambino ci va facilmente. Poi, si ricordi, bambini piccoli, quello più grande sopra, quello più piccolo sotto, per non farlo cadere, e anche piccoli piccoli, io ci mettevo un pezzo di polisterolo con ricoperto di cotone e quindi diventava un bel box letto. In fondo un altro pezzo di polisterolo, in questo modo, dove ci mettevo tutti i giochi, per cui quando si svegliavano anche presto, c'erano i suoi giochi e non si dormiva con estrema tranquillità. Poi, come in tutti i campi con i letti singoli, questo letto sale e si può avere un grande garage lungo circa 190 e largo, mi sembra una cinquantina di centimetri, quindi è un grande contenitore, col suo sportello laterale. Quindi vi invitiamo a venirlo a vedere per capire questo bel camp e la sua funzionalità in un piazzale come il nostro della Caravambacci, con tanto usato e a prezzi, ottimi prezzi. È un'azienda solida come la Caravambacci. Ciao! Grazie!